Ed ora un tuffo nei parchi divertimento, vi portiamo a Parigi e sul Garda, dove nonostante la crisi le famiglie continuano a regalarsi qualche ora di svago. In Puglia adesso, da Otranto a Santa Maria di Leuca, un breve viaggio tra baglie naturali e piccoli porticcioli, visitando le tante bellissime grotte. Primavera è tutto uno sbocciare di fiori e riaprono i giardini del nostro paese, dal nord al sud. Vogliamo farvi inebriare di colori e profumi. E torniamo in Umbria per un breve itinerario tra Avigliano e Todi, alla scoperta di un castello che fu di due papi. Ed ora in Portogallo, a Cascais, per musei alla scoperta della storia di questa cittadina, e poi via lungo la costa fino a Cabo de Roca, il punto più occidente del continente europeo. E anche per oggi il sì viaggiare finisce qui. Io vi do appuntamento alla prossima settimana per viaggiare anche solo con la fantasia. Se volete scriverci il nostro sito è www.tg2.rai.it. Aperto alle vostre critiche, alle vostre proposte, ai vostri suggerimenti. Buon viaggio!